La terra trema per me è stato l'inizio, è stato proprio il contatto con il cinema la prima volta, io ho sempre voluto fare cinema, però ho cominciato con il teatro, ero aiuto regista di quel grandissimo regista di teatro che è stato Ettore Giannini, però volevo sempre fare il cinema e per fare il cinema ho fatto la comparsa, ho fatto delle piccole cose eccetera e poi finalmente nel 47, 46, 47 venne fuori questa occasione di andare con Visconti il quale aveva riunito una piccola troupe da documentario, lui sapeva che avrebbe fatto un film, però era partito per fare un documentario, anche perché i soldi erano pochi e quindi la truppa era limitatissima. Sono ricordi legati veramente ad una stagione di lavoro estremamente importante, estremamente felice, estremamente arricchita non solo dalla bravura di un grande artista come Lucchino, ma anche dalla sua generosità, perché Lucchino è stato un uomo estremamente generoso e la sua severità sul lavoro era proprio il prodotto della sua generosità nei confronti dei suoi collaboratori, lui amava molto i suoi collaboratori, infatti era sempre quella la troupe, io come Lucchino ho sempre fatto così, ho sempre riunito praticamente gli stessi collaboratori per ricostituire una famiglia, perché è molto importante poter sapere che cosa puoi ottenere da ogni uomo che lavora con te, è importantissimo nel cinema questo.